Grazie per la vostra collaborazione. E allora, un sacco dopo la messa, diciamo, intanto l'architetto D'Angio che qui presento, ve lo mostro, che viene da Castella a Mare, quindi vedete quanta strada fa, ha fatto la stessa strada di Monsignor Crociata, però lui l'ha fatta con Salallo di San Francesco, rendiamogli facile il lavoro pure a lui, chiunque voglia parlare, parla, noi faremo gli interventi, diciamo, istituzionali, grazie ancora, grazie.